Cos'è Bio? Bio è una linea cosmetica che si basa su un impiego dell'acqua nella sua forma. Quindi per fare un cosmetico si usa l'acqua, ma si mischia insieme agli oli o a tante altre sostanze. Bio è nella sua forma liquida acqua, acqua che avrà tante funzioni differenti. Nasce, se vogliamo, da un'analisi di quelle che sono le acque che si vendono nel settore della profumeria, acque profumate o profumatori d'ambiente, come possono essere l'acqua di Parma, l'acqua dell'Elba, l'acqua della Sardegna. Ma l'acqua per me personalmente si è stato un elemento molto particolare. Non abbiamo studiato la memoria, il suo tempo, le vibrazioni. Quindi l'acqua ha una funzione molto molto particolare. E quindi l'idea era di fare qualcosa di estremamente diverso sfruttando le proprietà dell'acqua, che sono anche di biorisonanza, che sono un database di informazioni. L'acqua è un database di informazioni energetico-vibrazionali da mischiare, da utilizzare assieme a tutte le vibrazioni, al mondo vibrazionale che è dato dalle piante, dalla parte botanica, soprattutto dagli oli essenziali. Quindi mettere insieme l'acqua e la natura per fare prodotti che facciano star bene le persone. Questo è il concetto. Attraverso cosa? Attraverso appunto dei prodotti sotto forma di acqua che hanno delle funzionalità che oggi vediamo. Il logo, anche lì, è stata un'intuizione, nel senso che quello che vi dico in dieci minuti sono almeno 4, 5, 6 mesi di ricerca, non è una roba da poco, ma l'idea è di essere in inglese o acqua in francese, cioè essere acqua. Noi siamo acqua, siamo fatti per il 70% di acqua e bio è una linea fatta di acque, per cui la relazione acqua del prodotto cosmetico e acqua di cui siamo fatti noi esseri umani. Io ho scritto, ci saranno 4 famiglie di prodotti, ma probabilmente di più, perché questa è soltanto un'indicazione. Le prime che vedremo sono le acque profumate emozionali, ma si possono fare eau de parfum, sempre una forma, è vero che c'è dell'alcol, ma la forma è quella dell'acqua. Le acque funzionali, cioè l'acqua può avere una funzione, può essere drenante, può essere modellante, può essere rigenerante, eccetera. E le acque biorisonanti, stiamo lavorando su un sistema che informa l'acqua del cosmetico, in modo che quell'informazione possa poi arrivare a livello cellulare e dare un effetto, antietà, sulle rossamenti, piuttosto che acne, eccetera, eccetera. Quindi tutto un progetto che stiamo portando avanti, stiamo sperimentando proprio in questo. Per capirci, ci potrebbero anche essere le acque bifasiche. Questo è un test fatto in laboratorio da me, la parte sopra è quella oleosa, la parte sotto è acquosa, e questo potrebbe essere uno stimolatore della melanina, perché quando lo agito si mischia la parte oleosa profumata con quella cosa e l'applico sul corpo come se fosse un'acqua profumata, ma con un contenuto di fase grassa che non si mischia, non è emulsionata. Quindi la forma è sempre quella liquida, per capire, insomma, come sarà, come si svilupperà la linea. Cosa facciamo oggi? Al di là di presentare il bio come carrellata generale di una linea nuova, presentiamo specificatamente le prime cinque referenze che escono nella linea, cioè le acque profumate emozionali.